e salve simmers io sono berichelle e oggi siamo tornati nell'after cinderella finalmente ragazzi rieccoci volevo prima di tutto scusarmi con voi perché in questo periodo non sto riuscendo a pubblicare regolarmente sto riuscendo a pubblicare poco perché ho tantissimo da fare e in più sono anche ammalata quindi volevo fare questa premessa adesso sto un pochino meglio però comunque se vedete che c'è un pochettino ci sono un pochino meno video ecco il motivo è questo però sicuramente dopo le vacanze tutto riprenderà super regolarmente adesso cerco di portarvi tutto quello che posso allora visto che siamo in tema natalizio io direi di partire con l'after cinderella e intanto guardate loro che proprio famigliuola che fanno il progetto scolastico il piccolino che balla che adoro e l'altro piccolino dove sei altro piccolino con la scodella in testa eccolo qua che si diverte con i blocchi in pila allora in questa puntata volevo intanto cambiare un pochettino il look della nostra cinerentola i capelli mi piacciono però volevo cambiare un po gli abiti con voi e metterle più abiti a tema natalizio quindi modifica in case ed eccoci qui allora gli abiti del resto della famiglia devo dire che mi convincono già così come sono per esempio ad amo è bellissimo però mi convince un po meno cinerentola un po per tutto allora abiti quotidiani di cinerentola mi piacciono però sono sempre quelli magari quelli li cambieremo un po più avanti però volevo magari metterle degli abiti in più tipo questa magliettina che non lo so le sta benissimo però è anche tipo calda mi sa molto di natale barra capodanno e gliela metterei sull'aranciato poi come pantaloni metterei o gonne vediamo un attimo oddio lei sta benissimo con i jeans strappati non so se lasciarglieli sta benissimo con questi jeans quasi quasi glieli lascio ci sta dai cinerentola trasgressiva allora così e guardate questi stivaletti però no in casa no assolutamente ho troppo magari delle scarpe bianche così delle sneakers bianche belle mi piace e così mi sta già un po più non lo so di natale è molto molto semplice però mi piace mentre come abiti vedete formali ecco qui non mi piace proprio e infatti voglio scegliere qualcosa di elegante adesso lei è una principessa quindi qualcosa di elegante che non le ho mai messo vediamo oddio guardate che bella lei così oddio guardate che bella ok è preimpostato ma è bellissimo su di lei sta proprio benissimo poi con questo trucco no adoro è bellissimo io non pensavo di mettergli questo dir la verità però quasi quasi mi piace parecchio e però così è molto natalizio non lo so sono un po indecisa vediamo un attimo no questa volta vado sui tipi di look perché a lei sta bene questo bianco ragazzi rimaniamo su questo a lei sta bene questo poi formali mi piace sì mi piace ancora da notte va benissimo è bella elegante da festa nel senso che è bellina però magari le sceglierei un altro abitino e anche un'altra pettinatura dai cambiamo qualcosina potremmo metterle potremmo metterle no questi no non sono eleganti sempre qualcosa di elegante però lei è cenerentola quindi comunque elegante ma semplice qualcosa di così mi piace e i capelli come potremmo farli capelli potrebbe lisciarli in questo caso di farli più lisci poi volevo andare anche un po al ristorante con lei e mettere un bell'albero di natale in casa e so anche già dove guardate che bella coi capelli lisci così da festa bellissima questo è appunto per andare in piscina e secondo me va benissimo questi sono quelli diciamo estivi ma non lo so non mi convincono più tanto li cambierei e metterei qualcosa di più carino vediamo cosa c'è guardatela così quanto è bella magari cambio giusto giusto il colore degli stivaletti no è bellissima così in nero adoro la adoro però la vedrei bene con una coda lei capelli un po mossi ma nella coda non si vede più di tanto oppure questa coda qua guardate abbiamo cenerentola trasgressiva è bellissima e questi sono per uscire e sta benissimo ok perfetto io direi di mettere un bell'albero di natale così potrebbero cantare tutti una bella canzone sotto l'albero e poi di andare al ristorante con lei allora pensavo di mettere l'alberello qua quindi prendiamo il pianoforte e lo mettiamo momentaneamente nell'inventario di famiglia così non lo buttiamo via però è nell'inventario possiamo mettere anche il tappeto nell'inventario accenderei le luci ok allora fatto è molto molto semplice poi il resto della casa magari lo decorerò per conto mio qui ho messo un po di decorazioni e l'ho pensato un po come un angolo bambini quasi no perché vorrei venire qui a decorare l'albero con tutta la famiglia quindi comandi e luci colore intensità tutte le luci magari facciamo un colore più sul giallino e l'intensità media tipo così mi piace il colore giallino e poi veniamo a decorare decora decora con accendi l'albero allora decoriamo con base di tessuto l'albero ghirlanda ornamenti bianco e blu giallo e bianco rosso e oro direi assolutamente sì e andiamo tutti quanti a decorare l'albero forza basta fare il progetto direi che si possono fermare e bravissimi andate tutti a fare l'albero poi adesso abbiamo la nostra cenerentola un po rock star e ci sta ragazzi ci sta diciamo che non è proprio una puntata di natale questa ma quasi visto che ormai siamo vicini e poi volevo appunto pubblicare qualcosa di un po natalizio secondo me cenerentola è la cosa migliore forza arrivate tutti guardate lei bravissima ad amo bravo ho messo i regali qui così non li intralciano apriamo anche qualche dono quasi quasi abbiamo le musichette di natale sentite spero si senta e lei si va a prendere un regalino quindi apri dono vai di nascosto mentre gli altri decorano bravissima di nascosto brava cosa ha trovato ha trovato un mister floppy l'ognomo bellissimo abbiamo decorato benissimo come stanno i piccoli vai apri dono mentre cenerentola andava a prendere i piccolini andiamo a prendere i piccolini o quello qua lui vuole la mamma piccolo lo diamolo lo rallegriamo raccontiamo una storia buffa lui ancora qui che balla eh sì lui stava ballando fa il ballerino lui buttati nella vasca delle palline gioco nella vasca forza lui è qui da solo però sta benissimo stanno tutti benissimo quindi sono tutti al sicuro tranquilli bravo buttati oppala guardatela piccolo mio adesso ci giochiamo e volevo andare al ristorante non importa se è notte perché tanto lei sta bene e quindi ci stiamo giusto poco poco non guardiamo l'orario facciamo finta che è sera vuoi giocare sì sì eccolo qua eccolo eccolo qui magari Adamo adesso può venire a darle un bel bacio alla sua cenerentola visto che adesso con lei andiamo via non guardiamo l'orario non ce ne importa niente e vieni qua baciala perché adesso lei andrà a lavorare quindi vieni bravi un bel bacio sotto il vischio in realtà non è sotto il vischio ma va bene così ragazzi partiamo andiamo via con cenerentola al ristorante ed eccoci qui allora chi se lo ricorda il ristorante l'avevo costruito io ancora al tempo e devo dire che guardandola adesso qualcosa cambierei però 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 mi c'ero messa di impegno a mio tempo e diciamo che sono migliorata nel costruire per fortuna ah qui l'avevo messo giusto in realtà momentanea questa cosa perché volevo fare un fichi fichi mi ricordo ancora tanto tempo fa e niente lo togliamo e direi di andare all'interno allora andiamo all'interno vai qui e chiamiamo tutti qualcosa sicuramente la voglio modificare perché diciamo che quando costruivo al tempo ero ancora abbastanza inesperta lo sono anche adesso ma un po' meno però devo dire che l'interno insomma non è brutto è carino molto romantico e sembra già abbastanza natalizio sì mi piace direi di aprire facciamo una cosa molto tranquilla molto veloce perché questo video comunque durerà sicuramente poco però ci sta sì avevo voglia di riaprire il ristorante con voi guardate qui c'è la postazione dello chef perfetto sediti qui e aspetta i dipendenti e i clienti ecco la chef devo dire che lei è bravissima quindi direi di lodarla subito perché di solito cucina veramente veramente bellissimo speriamo che arrivino un po' di clienti magari non troppi ma che ne arrivino un po' bravo il nostro cameriere che poverino è anziano anche l'altra cameriere anziana la vedo male ragazzi poverini sono tutti anziani ecco la prima cliente salve vuole un posto sedere un posto a tavola clara venga signora clara venga e è contenta il servizio è ottimo perfetto è arrivato con lui col maritino perfetto guardatola qui uh e si siedono qua fuori che romanticismo andiamo da loro a chiedere come va consiglia un piatto sì 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 consigliamo noi allora direi da bere questo oppure andiamo sul più costoso questo è il più costoso che c'è andiamo sui piatti costosi siamo cattivissimi e poi questo mi piace molto scenico adatto vegetariani anche perfetto ma lei come si è vestita eh vabbè giustamente a freddo però vabbè non è proprio da titolare eh poi magari la cambiamo non è proprio questo l'abito che devi indossare comunque le consiglio questi piatti non se ne pentirà forse vi pentirete del prezzo però sicuramente sicuramente non dei piatti allora abiti cambia abito e direi di metterti questo forza un po' da rock star però già più da titolare guardate che bella che è così prova questo piatto perfetto e direi qui di non ammettere nessun uomo cliente ne abbiamo già abbastanza benvenute signorine benvenute guardate lei come sta da fare dal benvenuto a tutti bravissima questa dovrebbe essere l'ultima cliente perfetto forse assieme a lui forse sì sta per arrivare il vostro piatto tranquilli signori eccolo qui vediamo un po' la qualità wow ma io per lei non ho ordinato questo ma va bene eccellente eccellente wow ah perché si vede che giustamente ho scelto solo per lui sì effettivamente ma è tutto eccellente quindi spero che anche lei vada a 5 stelline perfetto e voi come siete messi a ordinazione intanto potete aspettare e vediamo qui diamo priorità a loro forse sono arrivati prima loro gestione ah no ecco il cameriere bravissimo dovremmo promuoverlo bravo guardate qui bellissimo petali d'amore di pancetta saporita eccellente tutto eccellente ragazzi vediamo se possiamo tipo promuovere la nostra capo chef ma forse è già al massimo lo sapete licenza critica degrada no no devo dire che è già al massimo infatti si vede pronunciamo un discorso motivante diciamo bravissimo complimenti te la stai cavando egregiamente e intanto è sorto il sole guardate qua e qui abbiamo vista mare oddio c'è un pochettino di nebbiolina però è tutto bello guardate stupendo complimenti signorina lei è promossa davvero sì fantastico anche lui assolutamente promosso vediamo un attimo promuove cameriere livello 5 aspettate lui è già a livello 5 livello 4 quindi forse lui va bene così per adesso però vediamo anche chi sta alla reception allora gestisci lei è veramente brava lei la promuoverei anche a un livello in più degli altri veramente brava brava ha gestito bene tutto complimenti davvero grazie è felice perfetto ho lavorato moltissimo e sono felice che tu l'abbia notato perfetto direi di tornare a casa e chiudere la puntata chiudiamo siamo in perdita perché abbiamo pagato i dipendenti però siamo andati bene eccellenza di servizio possiamo crescere come atmosfera tocco personale però direi tutto bene e sono tutti soddisfatti lei tantissimo soprattutto jessica perfetto direi di tornare a casa eccoci a casa lei non vede l'ora di andare dal suo Adamo e forse avranno anche un altro piccolino o meglio un'altra piccolina ma questo di questo se ne parlerà nelle prossime puntate per adesso ci fermiamo qua mettete like commentate iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti